Per combattere e superare l'ansia è fondamentale seguire uno stile di vita sano, adottare alcune strategie anche in grado di rendere più morbido l'approccio ai grandi o piccoli inconvenienti quotidiani, quindi cercare di prendere le cose con meno ansia. Che cosa potrebbe aiutare questo? Ti voglio elencare, ti voglio parlare di 8 strategie che potrebbero essere efficaci. Pratica esercizi di respirazione profonda e meditazione per calmare la mente e il corpo. Fai esercizio fisico regolare, poiché l'attività fisica può aiutare a ridurre i sintomi dell'ansia, perché scarica la tensione accumulata nel corpo e produce endorfine. Cerca ovviamente di mantenere una dieta sana e dormire a sufficienza, almeno 7 ore al giorno. E' importante anche connettersi con amici e persone care per creare una rete di supporto, non rimanere soli. Molte ricerche confermano che abbiamo veramente bisogno di socialità. Identifica i fattori scatenanti che causano ansia e cerca di evitarli e di gestirli. Impara tecniche di rilassamento, come lo yoga, il rilassamento muscolare progressivo, il training autogeno. Sono ottimi modi, ovviamente, per avere un maggior controllo del proprio corpo e non solo, anche della propria mente. Prendi in considerazione la terapia per risolvere i problemi di fondo, che potrebbero contribuire all'ansia. Con la ISDP, per esempio, si lavora molto nel profondo e in tempi brevi si riesce a ridurre i sintomi dell'ansia. Usa un dialogo interiore positivo per contrastare i tuoi pensieri negativi. Non pensare sempre in negativo, quindi aiutati anche con questa strategia. Infine, prova degli integratori da banco come acidi grassi. Alcune ricerche hanno confermato che anche gli omega 3 sono utili per aiutare con l'ansia. Ovviamente non bastano, ovviamente devi in qualche modo chiedere consiglio al farmacista oppure all'erborista a cui ti rivolgi.